Non esiste il diverso ma esiste la vita, basta! Per me il Pride è la possibilità di portare, in particolare nel mio caso, una realtà che non è abbastanza trattata, soprattutto nella comunità LGBT stessa, ovvero la bisessualità. Per me è sempre stata un'opportunità di riscatto, un'opportunità di sentirmi libero, vivo e tutte queste cose che alla fine sentiamo tutti in comune, però in particolare negli ultimi anni è diventata l'opportunità di portare qualcosa che viene deliberatamente ignorato, magari nemmeno con cattiveria, però le persone qui hanno bisogno di rappresentazione, hanno bisogno di essere accolte per via dei problemi che subiscono.